amiche ed amici finalmente ci siamo ciao a tutti ben ritrovati su miss io sono simona ed oggi con molto entusiasmo vi mostrerò come ho realizzato questo copricostume che già avete visto in anteprima però non mi dilungherò troppo in chiacchiere perché passo passo durante il tutorial vi dico davvero tutto 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 credo di non avervi detto soltanto una cosa ovvero quanto filato ho utilizzato in questo caso stiamo parlando di un filato in cotone che ho lavorato con l'uncinetto numero 4 450 grammi di cotone nonché 1125 metri all'incirca di filato in questo modo vi potete regolare ho realizzato una taglia m ma anche per una l potrebbe andare bene ma vi riporto direttamente al tutorial per tutte le info utili prima però devo ricordarvi assolutamente di continuarmi a seguire per non perdervi altri tutorial consigli trucchetti utili che riguardano il mondo dell'uncinetto sia qui sul canale quindi iscriviti attiva la campanellina e anche sui social mi raccomando seguimi è molto importante fammi sapere cosa ne pensi di questo progetto con un commento e supportami con un bel pollice all'insù a questo punto sigla dunque per questo copricostume avvierò esattamente un numero dispari di catenelle per la precisione ne avvierò 81 aggiungo ovviamente un'altra catenella per ritornare indietro come prendo le misure esattamente in questo modo non faccio chissà quali calcoli vado direttamente ad occhio perché mi trovo abbastanza bene e voi potreste fare la stessa cosa queste 81 catenelle è chiaro che per una taglia m per la mia taglia sono in abbondanza perché corrispondono a 52 centimetri che sommati al secondo pannello ovvero quello dietro sono 104 centimetri di circonferenza che per una taglia m per la mia taglia è chiaro che sono un po troppi ma non è detto perché sapete a me piacciono un po i capi molto molto comodi certamente chi è una taglia l può avviare gli stessi centimetri una taglia xl può spingersi dai 115 ai 120 centimetri di circonferenza che è una doppia xl dai 120 ai 125 centimetri mi raccomando tenete in considerazione che il numero delle catenelle deve essere dispari per mostrarvi il punto di lavorazione non avvierò un campioncino ma avvierò la lavorazione che riguarda una manica questa clip è troppo avanti rispetto a quelle che vi ho mostrato precedentemente però intanto vediamo come lavorare il punto di lavorazione e poi vi tornerà tutto anche in questo caso avvierò un numero di catenelle dispari 55 però farò una catenella in più quindi 56 per ritornare indietro e lavorare i punti alti il punto rete vi ricordo che per la lavorazione dei pannelli davanti e dietro ho avviato 81 catenelle numero dispari più una catenella per ritornare indietro 82 penso che sia tutto chiaro 56esima catenella per ritornare indietro allora in questo caso equivalgono queste catenelle a 36 centimetri stesse dimensioni del giro manica dunque per il punto di lavorazione io cosa faccio inizio subito a partire dalla seconda catenella vado a lavorare un punto basso sull'altro per fare il primo punto alto se voi siete abituati a fare le catenelle aggiungete altre due catenelle contate 123 e nella quarta andate a fare il punto alto normale le 3 catenelle non sono il primo punto però io sapete faccio un punto basso sull'altro quindi mi inserisco nella prima catenella faccio un punto basso sull'altro nella catenella successiva facciamo un secondo punto alto per un totale di due consecutivi 1 e 2 solo dopo inizieremo con la lavorazione appunto rete quindi catenella salto un punto vado nel successivo e lavoro un punto alto catenella salto una catenella al di sotto vado nella catenella successiva e faccio un punto alto catenella prendo il filo salto la catenella e vado nella successiva e continuo in questo modo per tutta la riga al termine della riga visto che ho avviato un numero dispari mi rimarranno gli ultimi tre punti il terzo ultimo lo vado a sostituire dalla catenella faccio un punto alto nel penultimo punto quindi catenella è un altro punto alto nell'ultima catenella per un totale di due consecutivi in sostanza andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto ad inizio riga intanto vedo se tutto coincide qui sì perfettamente faccio una catenella giro il mio lavoro è per un copricostume non troppo traforato ma vedo non vedo vado a rivoluzionare un pochettino il punto rete quindi cosa faccio vado a lavorare dei punti alti ma adesso lo vediamo allora intanto nel primo punto e nel secondo faccio sempre un punto alto il primo lo sostituiscono i due punti bassi e poi ne faccio un altro ok poi per ciascun spazio fatto dalla catenella di separazione vado a lavorare due punti alti però attenzione qui perché così facendo andiamo a realizzare un punto in più per cui ci ritroveremo non più 55 punti ma 56 punti durante questa riga intanto lavoriamo lì poi a fine riga vi faccio vedere cosa fare per ovviare al punto in più e nello stesso tempo non alterare la trama di lavorazione dunque nell'ultimo spazio di fine riga esattamente questo non andrò a lavorare due punti alti perché come vi dicevo realizzo un punto in più e noi dobbiamo avere sempre un numero dispari per poter lavorare il punto rete ovvero la riga successiva quindi cosa facciamo inganniamo un po l'occhio nel senso che prendo il filo chiudo le prime due asole riprendo il filo entro sempre nello stesso spazio chiudo le prime due asole o tre asole sull'uncinetto chiudo tutto e ho soltanto un punto anche se otticamente inganno ottico ne abbiamo uno e due ma abbiamo soltanto una sola su cui lavorare nella riga successiva piccolo trucchetto quindi terminerò la riga sempre in questo modo ecco gli ultimi due punti alti consecutivi anche questi due punti alti consecutivi ad inizio e fine riga hanno un perché ma ve lo mostrerò proprio dopo intanto lavoriamo succo del discorso anche durante questa seconda riga avremo un totale o quantomeno io di 55 punti numero dispari assolutamente catenella già fatta giro il lavoro vado a ripetere la prima riga nei primi due punti faccio un punto alto e poi inizio con il punto rete catenella salto un punto vado nel successivo faccio un punto alto catenella salto un punto vado nel successivo un punto alto catenella salto un punto un punto alto è così via fino al termine della riga catenella catenella salto un punto vado nel successivo nonché il penultimo e faccio un punto alto così come farò un punto alto nell'ultimo punto ok poi per la riga successiva alla quarta faccio una catenella dobbiamo andare a ripetere quello che abbiamo fatto durante la seconda ad inizio riga faremo sempre i primi due punti alti consecutivi in ciascun quadrettino qui andiamo a fare due punti alti tranne che alla fine nell'ultimo quadratino li faremo la diminuzione però adesso ci arriviamo l'ultimo quadratino un punto alto un punto alto ok sono nell'ultimo quadratino quindi andiamo a ripetere quello che ho fatto prima diminuzione entro chiudo le prime due entro di nuovo chiudo le prime due tre asole chiudo tutto ossì due punti alti diciamo ma una sola a sola chiuderò la riga sempre in questo modo è con gli ultimi due punti alti consecutivi mi raccomando lo schema è troppo davvero troppo facile ora per andare avanti bisogna ripetere queste due righe per quanto riguarda i pannelli davanti e dietro io sono andata avanti in questo modo per un totale di 62 righe nonché 80 centimetri di altezza lunghezza copricostume ovviamente la lunghezza è personalizzabile se preferite il copicostume più lungo o più corto fate più o meno righe questo è chiaro per il pannello davanti e dietro escludendo le due mani che ho utilizzato in totale 350 grammi di cotone nonché 875 metri di filato visto dando tante info per cui anche voi in base alla vostra taglia con questi numeri potete calcolare benissimo quanti gomitoli quanto cotone utilizzare per realizzare il copicostume che vi calza a pennello insomma qui io sto realizzando la mia manichetta che equivale a 18 centimetri per quanto riguarda le due manichette andrò avanti finché non lo desidero possiamo realizzare una manichetta tipo maglietta no per intenderci quindi corta oppure a tre quarti oppure lunga fino al polso ho scelto esattamente questa lunghezza tre quarti una via di mezzo quindi né troppo corta né troppo lunga ma volendo potete personalizzare il progetto è chiaro scelta la lunghezza quindi possiamo andare a realizzare un altro pannello e andranno a fissare esattamente dall'altra parte in totale quindi ho fatto venti righe alternando le prime due raggiungendo così 23 cm di altezza quando ho fatto l'ultima riga lavorando due punti alti in ciascuna catenella non ho fatto la diminuzione nell'ultimo quadratino perché perché in questo modo mi ritrovo 56 punti che corrispondono allo stesso numero di punti che ho sui pannelli davanti e dietro ma prima di procedere con questo passaggio facciamo un attimino un salto indietro ritorniamo ai due pannelli davanti e dietro perché devo mostrarvi come cucire la zona delle spalle e come ricavare i centimetri esatti che riguardano il giro manica bene una volta terminati due pannelli davanti e dietro bisogna decidere quanto ampio lasciare lo scollo sto lasciando libera un'apertura da circa 29 cm per cui sia a sinistra che a destra andrò a cucire esattamente 23 punti bassi che corrispondono più o meno a 10 cm molto semplicemente vado a riprendere il filo potete fare questa operazione anche con ago e filo io preferisco fare in questo modo mi inserisco nel primo punto alto e nel primo punto alto dell'altro pannello intanto tiro fuori il cappio e vado a bloccare con una catenella entro sempre negli stessi punti e faccio un punto basso farò un punto basso dove ci sono i punti alti quindi secondo punto alto con secondo punto alto chiaramente ho messo due pannelli dritto contro dritto sto cucendo sulla zona del rovescio dove ci sono le due catenelle di separazione entro proprio nello spazio e faccio due punti bassi punto alto con punto alto quindi entro punto alto punto alto e cucio per cui sono a cinque punti bassi 6 7 8 ventitresimo ed ultimo punto basso vado a bloccare i punti alti proprio come ho fatto dall'altra parte cadere di sicurezza stacco il filo non trovo nemmeno più le forbici figuratevi voi vado a nascondere il filo in eccesso in questo modo una volta cucita la zona delle spalle ci possiamo occupare del giro manica però prima di farlo vi faccio vedere come fare perché secondo me la pratica è meglio della teoria in certi casi quindi intanto indosso sempre sul rovescio il mio capo vi faccio vedere il risultato questo è il risultato non fate caso ai jeans al di sotto poi vedremo tutto forse l'avete visto in anteprima meglio occupiamoci del giro manica prendiamo due marca punti indossiamo il nostro capo e decidiamo quanto libero lasciare il nostro giro manica a nostra scelta possiamo fare proprio la misura azzeccata azzeccata oppure lasciarlo un po più morbido prendo come riferimento proprio la canotta che ho al di sotto è più o meno metto il marca punti qui bene il mio giro manica sarà da 18 cm sommati ai 18 cm sull'altro pannello sono 36 cm di circonferenza ho segnato anche l'altra zona qui sono 14 righe che lascerò libere ora volendo potremmo agganciarci direttamente sul giro manica e andare a realizzare la prima manica così come la seconda però questo significherebbe cosa visto che abbiamo due pannelli belli sostanziosi girare e rigirare il nostro pannello quindi potremmo fare le due maniche direttamente a pannello proprio come abbiamo fatto due pannelli davanti e dietro andare a cucire il tutto nel giro manica e poi fare e poi eseguire un'ultima cucitura che seguirà fianchi busto più manica ed è l'opzione che scelgo perché più semplice più facile e anche veloce quindi io adesso cosa faccio vado a contarmi tutti i punti che ho sia sul lato sia sull'altro lato o 14 righe 14 x 2 visto che ciascuna riga appunto alto corrisponde a due punti bassi per ciascun punto alto sono 28 punti bassi da una parte più 28 punti bassi dall'altra parte sono 56 punti totali a questo punto farei una catenella girerei il mio lavoro e andrei a cucire questa zona sull'altra semplicissimo qui non faccio alcun calcolo è molto semplicemente faccio in questo modo guardate quanto è semplice entro nel primo punto è nel punto alto vi ricordate che avevo fatto due punti ad inizio e fine rigano entrò proprio nello spazio per questo progetto non mi importa se è antiestetico o qualcosa non lo sarà assolutamente quindi entro proprio nello spazio tra un punto alto e l'altro per intenderci e faccio un punto basso entro nel secondo punto è sempre nello stesso spazio del punto alto per ciascuna riga per ciascun punto alto lavoro due punti che ho sul pannello del giro manica quindi uno vado nella prossima riga faccio uno e due andrò a cucire a 56 punti quindi riga successiva entro punto successivo sempre nella stessa riga punto successivo riga successiva punto successivo sempre nella stessa riga e procedo così finché non lavoro tutti e 56 i punti sto cucendo sempre sulla zona del rovescio e chiaro bene sono al termine della riga mi rimangono gli ultimi due punti e devo bloccare l'ultima riga come notate tutto coincide perfettamente quindi entro nel primo entro nel secondo nonché all'ultimo punto è blocco tutto quindi catenella di sicurezza posso staccare un po di filo che vado a nascondere subito subito questo poi sarà il risultato all'interno ovvio qui abbiamo l'altra cucitura mentre all'esterno lavoro super pulito come notate grazie a due punti alti inizio e fine riga andiamo a creare dei piccoli quadratini rimaniamo fedeli alla trama di lavorazione il che è fantastico una volta provato il nostro capo è deciso le varie lunghezze si passa al passaggio successivo ovvero andare a cucire sia la manichetta che i due pannelli fronte retro anche qui si può personalizzare la cucitura si possono cucire entrambi i pannelli finché appunto non terminiamo tutta la cucitura oppure fare un leggero spacco che è quello che vorrei fare proprio io ragion per cui anche in questo caso entrano in gioco i marca punti prendo come riferimento proprio il pantaloncino che sto indossando non ci possiamo sbagliare potete fare anche voi allo stesso modo realizzare un capo è una continua prova io ve lo dico sempre nei tutorial lascerò questo leggero spacco proprio qui ho posizionato per bene il marca punti più che altro dall'altra parte come linea guida sto lasciando libere 12 righe che corrispondono a 14 centimetri di spacco lo stesso già ho fatto dall'altra parte eccolo qui ho già cucito il primo lato è davvero semplicissimo velocissimo non dovete fare alcun calcolo non bisogna essere nemmeno troppo precisi adesso vi mostro tutto perché se vi ricordate ad ogni inizio e fine riga abbiamo sempre fatto due punti alti quindi stessa cucitura per quanto riguarda la zona delle spalle possiamo fare un cappio anche per facilitare il lavoro alle principianti perché comunque questo è un progetto davvero alla portata di tutti inizio esattamente dove c'è il marca punti nella riga appunto rete entro nello spazio tra un punto alto e l'altro stessa cosa faccio dall'altra parte così nessun calcolo davvero un progetto molto molto free prendo il cotone vado a fare un primo punto basso mi lavoro anche la coda dietro faccio un altro punto basso sempre nello stesso spazio perché perché ho un punto alto un punto alto comunque equivale a due punti bassi a due punti poi riga successiva di punti alti di punti v entro sempre tra un punto alto e l'altro qui stessa cosa faccio sull'altro pannello dietro e faccio due punti davvero ragazzi più semplice di così non si può 1 e 2 punto rete tra un punto e l'altro entro anche dall'altra parte 1 e 2 procedo in questo modo per tutte le righe che mi ritrovo ora quando terminiamo la zona delle cosce gambe insomma fianchi busto ci ritroveremo sulla zona ascellare no non cambia assolutamente nulla ve lo anticipo prima perché un passaggio che non vi mostrerò vi ripeto non cambia assolutamente nulla ci ritroviamo sempre delle righe appunto rete e appunto v non faremo altro che continuare dove c'è la cucitura no della manichetta in questo modo lavorando due punti in ciascuna riga niente di più niente di meno per lo più posso mostrarvi come andare a rifinire il giro manica proprio come ho fatto da quest'altra parte con questi bellissimi ventaglietti dai ci sta bisogna rifinire un qualcosa e rifinirò giusto le maniche bene bene terminata tutta la cucitura anche sulla manichetta arriveremo a questo punto con gli ultimi due punti bassi nell'ultima riga qui in questo caso appunto rete facciamo una catenella giriamo il nostro lavoro esattamente in questo modo senza capovolgere il nostro lavoro siamo sempre sul rovescio però in questo modo andremo a lavorare dei ventaglietti sul dritto entro nel primo quadratino faccio un punto basso 3 catenelle e ripeto il modulo quattro punti alti 123 catenelle e nello stesso spazio quattro punti alti 1 2 3 e 4 e continuerò così per tutto il mio giro manica finché non otterrò questa situazione una volta fatto l'ultimo ventaglietto nel penultimo quadratino saltiamo un quadratino e andiamo a a chiuderci con un punto bassissimo nel primo quadratino dove abbiamo fatto il primo ventaglietto quindi entriamo in questo modo chiudiamo appunto bassissimo facciamo una catenella di sicurezza stacchiamo il filo e lo andiamo a nascondere tra i punti dietro volendo potete andare a rifinire anche la zona inferiore se viva è un passaggio che io non farò bene amiche d'amici ho terminato anche le due manichette le ho anche rifinito lo avete visto adesso possiamo capovolgere insieme il nostro copricostume o abitino addirittura e voilà ora non c'è un davanti non c'è un dietro perché tutto uguale quindi indossiamolo intanto vi faccio vedere meglio le rifiniture eccole qui e anche sulla manichetta ok possiamo indossarlo ovviamente col pantaloncino al di sotto non è il massimo questi qui sono i fili del pantaloncino jeans stesso quindi non ingannatevi e voilà questo è il risultato finale ovviamente sembra struttivo ma soltanto perché ho i jeans al di sotto manica a tre quarti ovviamente indossandolo provandolo e riprovandolo il capo cede il cotone stesso cede e anche lavandolo più volte quindi è del tutto normale questa è la lunghezza però sicuramente avete visto già in anteprima il risultato davvero finale perché così comunque sono al di sotto un po vestita e non rende molto ok eccoci qui belle comode io spero che questo progetto vi sia davvero piaciuto vi aspetto come sempre giù nei commenti fatemi sapere anche se proverete a replicarlo io sono molto entusiasta di ciò che ho realizzato ci sono voluti ben sei giorni ma considerate anche che ho impiegato tutto questo tempo perché ho registrato tutte le varie clip sia nella pratica sia nella teoria e quindi diciamo che il tempo è un po volato io come sempre vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi mi raccomando continuate a seguirmi per altri video tutorial seguitemi anche sui social iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdervi le prossime novità e fatemi sapere se siete interessati a vedere altri progetti del genere sono a vostra disposizione grazie ancora per la compagnia per l'attenzione alla prossima un bacino a tutti